posso risponderti e poi tagliare questa clip e caricarla sul mio canale che è un video che volevo fare ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video lo so, ho letto, sono reso conto, si parla di Thiago Jalot alla Juventus dovrebbe essere ormai conclusa questa trattativa, dovrebbe essere il primo colpo di carciomercato invernale e primo colpo effettivo di Giuntoli in entrata per la Rosa della Juventus il primo giocatore che va a acquistare Giuntoli e che arriverà poi alla Juve perché Thiago Jalot dovrebbe arrivare alla Juventus già in questa sessione invernale ne parleremo con un po' più di calma anche se non ho tantissime cose da dire dato che non conosco questo giocatore però cercheremo di fare una panoramica come abbiamo fatto lo scorso anno con tutti i calciatori che erano stati accostati alla Juventus non so perché ma spero di sbagliarmi, ho un po' di vibes di Jorge Andrade non so quanti se lo ricordano, credo che sia un brutto ricordo per la Juve mi auguro veramente che Thiago Jalot possa fare di meglio rispetto ad Andrade ma ripeto, ne parleremo in un altro contenuto oggi voglio portarvi invece questo estratto della live di ieri di Tutti in the Box dove è saltata fuori la tematica del tridente e quindi Chiesa, e quindi Ildis, e quindi Vlaovic io avevo già in mente di registrare un contenuto di questo tipo e ho colto la palla al balzo e come avete visto nell'introduzione ho rubato letteralmente la clip ad Avon ma perché? Perché erano già cose che avevo preparato aspettavo soltanto il buco giusto per pubblicare questo video e quindi godetevelo, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti ma prima di iniziare vi chiedo, secondo voi, come potrebbe essere la Juventus la migliore Juventus possibile con gli uomini a disposizione e il tridente Chiesa, Ildis e Vlaovic mantenendo comunque la difesa 3 fatemi sapere la formazione qui sotto nei commenti poi magari mi aspetto anche un'evoluzione io poi vi faccio una domanda, credo io guardo le stagioni dell'Inter, le grandi vittorie dell'Inter comunque c'è sempre stato un click, un qualcosa di evoluzione durante l'anno lo scudetto di Conte, c'è la partita col Sassuolo con il nuovo modulo, Persic più dietro, il triplet, il passaggio al 4-2-3-1, Pandev, eccetera un click, secondo me, durante la stagione non puoi partire come all'inizio e arrivi fino alla fine in quel modulo lì, secondo me quindi l'Inter per me ancora non l'ha fatta questa cosa la Juventus, secondo voi ce l'ha si chiama Ildis addirittura si chiama Ildis la Juventus ha scoperto Ildis che non sapeva fosse così immaginava che risposta hai dato convinto speravo, sì sono convinti no no, ci sta, ci sta Ildis comporterà credo l'unico movimento significativo di mercato sarà l'uscita di Ken che andrà in prestio perché vuole giustamente giocare per andare poi all'europeo con la nazionale e poi vedrà Ildis quello che può dare Ildis invece è il jolly che hanno pescato e che può essere al posto di chiesa può essere anche in un futuro in certe partite, in certe mezz'ore insieme a chiesa e obiettivamente vedere quel ragazzino come delle volte si gira come va sul dribbino sul destro sul sinistro anche ieri ha fatto due tre giocati ieri non lo prendono non lo prendono è veramente un talento che io non pensavo il primo giallo di Maggiore che scatena lui che fa quel tunnel sul doppio pressing Maggiore deve fare quell'intervento lì deve farlo se penso anch'io alle stagioni della Juve c'era stato il click il primo anno di Allegri con il Rombo perché si è reso conto che il reparto più importante della squadra era effettivamente era effettivamente il centrocampo quindi come faccio a metterli tutti? benissimo con Rombo e Vidal dietro la punta l'anno di Cardiff anche lui con il 4-2-3-1 qual è il reparto più forte? l'attacco li metto tutti con Manzkeci che fa l'ala Di Bala dietro Iguain e Quadrado addirittura Dani Alves che faceva l'ala destra la domanda quindi che vi faccio è il click potrebbe essere il click definitivo della Juventus potrebbe essere il 3-4-3-3-4-2-1 chiamatelo come volete con Chiesa Ildiz alle spalle di Vlaovic potrebbe essere questa la scossa definitiva la mia risposta è nì cioè mi spaventa perché secondo me quando tu trovi il tuo vestito e trovi solidità con un certo assetto di gioco andarlo a cambiare secondo me porta meno benefici che altro cioè fa più danni penso all'anno scorso rientra Chiesa tu ti eri consolidato perfettamente col 3-5-2 col 3-5-1-1 con Di Maria dietro la punta torna Chiesa sei costato a fare il 4-3-3 e secondo me qualcosa va storto la squadra perde un po' di certezze io oggi faccio fatica ad andare a toccare questo 3-5-2 della Juve posso risponderti e poi tagliare questa clip e caricarla sul mio canale che è un video che volevo fare era in progetto ah ok allora domanda se vai di 3-4-2-1 dove lo metti Ildiz? a sinistra e Chiesa a destra come ha fatto l'europeo che si è messo un ruolo ok io e te l'anno scorso eravamo a Torino a vedere la sfida col Nant dove giochiamo 3-4-3 con Di Maria Chiesa e Vlaovic qual è stato il limite di quelle partite lì mi ricordo anche quella con la Fiorentina in casa che Chiesa si abbassava troppo veniva spesso a centro campo perché c'era proprio quella volontà Allegri chiedeva il rientro in quel modo perché Allegri ha sempre espresso un concetto non è tanto il problema di quanti giocatori offensivi mette in campo ma la disposizione al sacrificio e quello chiedeva Chiesa di tornare spesso più di Di Maria che tornava meno e più di Vlaovic che doveva fare il riferimento offensivo anche a ripulire dei palloni l'altro giorno in conferenza stampa ad Allegri hanno chiesto dove giocherebbe meglio Ildis secondo lui lui ha dato una risposta che lì per lì mi aveva lasciato un po' perplesso pensandoci sopra in questi giorni mi ha chiarito un po' le idee lui ha detto grande seconda punta adesso ad oggi fa un po' fatica a fare la mezzala non la può fare io lì per lì sono rimasto stupito ho detto perché la mezzala per quale motivo perché vuole metterlo perché se fai 3-4-2-1 3-4-2-1 con Chiesa e Ildis allora Ildis deve andare a coprire quella posizione lì e quando difendi Ildis deve fare la mezzala per quello che Allegri l'altro giorno non la può fare ma non perché viene schierato fisicamente dal 3-5-2 come mezzala ma perché quando si difende la Juve difende 5-3-2 perché secondo me lui vorrebbe fare il Miretti vorrebbe fare il Mekenni secondo me è più il Mekenni il Mekenni che va a pressare quando gli altri iniziano da dietro quella è una questione di posizione però certo però perché se tu sei in mezzala devi uscire se mi date un foglio vi fa un disegnino ma ti devo dire che ha ragione Tosellone l'idea è quella lì l'idea è quella lì ti posso chiamare Tosellone eh t'ho sentito lui che ti chiamava Tosellone ci mancherebbe altro capito se mi date un foglio si può avere un foglietto si può avere un foglio guarda che disegno che vi fa mentre tu disegni secondo me l'uscita è una questione più di posizione io parlo più in fase di possesso cioè se tu fai il pressing è giusto eh ma quest'anno la Juve non è più passiva come l'anno scorso c'ha delle situazioni in cui esce no no ma io infatti ti parlo più di fase di possesso che secondo me è più da Miretti c'è un giocatore che va a giocare tra le linee un giocatore che si nasconde va a giocare alle spalle del centrocampo avversario però sai cosa la differenza grande è che quest'anno non sei obbligato a mettere Ildis titolare l'anno scorso quando ti è tornato a Chiesa a Chiesa di Maria Vlaovic cavolo lo devi fare Ildis può essere un'arma in più fino a poche settimane fa Allegri ti rispondeva Chiesa è un giocatore unico per caratteristiche nella Rosa da un paio di settimane la risposta che dai è cambiata è Ildis è il sostituto naturale di Chiesa perché? perché è quel giocatore che ti salta l'uomo quindi la differenza grande non è tanto nello schieramento iniziale io spero che si arrivi alla soluzione tridente ma secondo me no secondo me la Juve continuerà 3-5-2 con una variabile impazzita in più che questa qua però bisogna anche adeguarsi perché ieri quando è entrato Milik e sono stati Milik e Ildis dietro Vlaovic non si è andati bene perché Milik stava un po' in giro Ildis stava tanto a sinistra sempre stava ai piedi con healing e quindi secondo me c'era da sistemare ancora un po' quella cosa lì però secondo me l'idea è di mantenere il 3-5-2 e in determinati momenti della partita magari quando vai sotto perché non si può sempre stare sopra come ieri che per la prima volta fa il tridente poi dopo appena pareggi subito infatti quello non mi è piaciuto tantissimo neanche a me perché Ildis era quello che ti dava tra le linee anche perché poi stava funzionando dai stava funzionando e quello che ti dà l'uno contro uno l'altro è UEA però anche lì sai lì eravamo palesemente col 3-4-3 non è che ti sei messo a 4 io non penso che andremo a 4 no 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 assolutamente no assolutamente no assolutamente no intanto abbiamo finito il disegno questo è così giocano peraltro sia l'Inter che questo è il portiere questo è il portiere perché così se no non si fa non si capisce quando la palla guardate qui quando la palla ce l'hanno gli altri ed è qui questo qui va in pressing questo qui va in pressing e quest'altro esce qua per andare in pressing quando la palla invece è di qua questo qui esce questo esce questo va così in pratica questa mezzala qua e questa mezzala qua perché la Juventus voleva Berardi quest'estate perché questa mezzala qua e questa mezzala qua sono McKennie che quando va in pressing questo è Rabiot questo è Rabiot ragazzi io sto facendo una cosa di grande è complesso io ho girato la testa questo è Rabiot questo è Rabiot che esce meno perché c'è sempre chiesa qua vero questo che esce moltissimo è McKennie perché perché non c'è chiesa qua il ruolo di McKennie lo può fare Ildiz dipende dipende da per me no guarda dipende non soltanto dalla presenza dello stesso Ildiz ma dal supporto che gli viene dato da questo giocatore qua e da questo giocatore qua in pratica con Locatelli c'è il supporto in fase difensiva che ti pare dappertutto questo giocatore qua se è UEA per esempio dà un pochino meno supporto quindi Ildiz qua e UEA qui probabilmente no McKennie qui e Ildiz qui e cambiasse di là al posto di Cosa però è proprio 3-4 3 puro dopo se mettiamo al campetto quella è la formazione giusta giustissima cioè se devi selezionare oggi gli undici è quella lì cambiasa una parte meccanica l'altra esatto non so se avete apprezzato il video si conclude qui ragazzi è stata una chiacchierata spero abbastanza simpatica ma soprattutto costruttiva io concludo dicendo che sì per me è assolutamente meglio Ildiz a sinistra e chiesa a destra se devo immaginarmi il campetto non vado a immaginarmelo nella posizione di McKennie nel senso mezzala di destra vado a immaginarmelo per quello che era la funzione il compito rivolto a McKennie che poi andrebbe a fare chiesa banalmente quindi ci sarebbe lo spostamento di chiesa dalla fascia sinistra alla fascia destra cosa che abbiamo già visto comunque in stagione perché chiese il libro di svariare sulla fascia senza problemi per liberare poi la corsia mancina invece a Ildiz e con Cambiaso che entra dentro il campo Ildiz è libero di partire largo da sinistra e fare un po' quello che vuole in alternativa ci sarebbe anche il 3-4-1-2 che è una mossa che abbiamo già visto fare ad Allegri l'abbiamo visto fare nell'anno della finale di Cardiff dove Dybala stava dietro alla coppia d'attacco Mandzukic e Higwein ogni tanto ci si scambiava quel 4-2-3-1 con Mandzukic a sinistra e si passava alla difesa 3 pura e invece l'abbiamo visto fare anche l'anno scorso al Parco dei Principi con Vlaovic e Milik praticamente copia d'attacco e con Miriti dietro al 2 punte insomma c'è la possibilità di giocare con due centrocampisti e un trequartista e Ildiz mi sembra il giocatore adatto per orbitare tra le linee in quella zona del campo fatemi sapere un po' le vostre considerazioni io alla fine non credo che la Juventus cambierà modulo non credo che la Juventus arriverà al tridente però era necessario discutere questi aspetti secondo me molto importanti però fa una cosa non la isolare per favore perché se questa va in giro poi riceve una telefonata da tutti che conosco e dici senti ascolta smettile questa la carico io Sandro forse non hai capito questa la carico io smette perché poi mi arrivano le telefonate ma falla apriam